Si parla di salvamento, si parla di attività in mare, per la sicurezza in mare, come sta andando quest'estate? Troppe situazioni si sono venute a determinare per un atteggiamento imprudente, un atteggiamento legato alla sopravvalutazione delle proprie forze, una contestuale sottovalutazione delle condizioni del mare. Questo è una cosa che fa riflettere, perché fare il bagno con la bandiera rossa, fare il bagno quando il bagnino magari ti fischia invitandoti, non dico ad uscire, ma a un atteggiamento più prudente e invece recarsi oltre la scogliera o in vicinanza della scogliera dove si vengono a creare o delle risacche che ti sbattono sugli scogli o degli effetti venturi, chiamiamoli così, che ti risucchiano al di là della scogliera verso il mare aperto, è evidente che questo sta a significare che c'è un atteggiamento sbagliato all'origine. Innanzitutto di studiare dove avvengono queste cose, se avvengono oltre gli scogli, all'interno di una scogliera, perché avvengono ed eventualmente insieme alle amministrazioni comunali, insieme alle cooperative che si occupano di salvataggio, individuare le soluzioni che possono scongiurare questi pericoli. Per esempio, laddove ci fosse una scogliera in vicinanza della quale si vengano a creare degli effetti venturi molto forti, molto accentuati, il rimedio potrebbe essere, l'abbiamo già sperimentato altrove in Italia, ma l'abbiamo sperimentato adesso anche in Abruzzo, mettere dei capitelli collegati tra loro con una sagola tarrozzata per fare in modo che chi non dovesse riuscire a vincere la forza del mare possa appendersi, possa sostenersi a questa sagola aspettando che arrivino i soccorsi, soccorsi che in questo caso verrebbero svolte in maniera più sicura, perché non c'è la concitazione del fare presto. Fare presto sì, ma non correre dei rischi eccessivi.